ignazio marino medico ancora prima che sindaco di roma dopo le polemiche per le sue lunghe vacanze americane proprio mentre era in viaggio verso gli states ha soccorso due passeggeri a bordo del volo roma new york insieme ad un altro dottore la notizia è stata data dalla press e confermata dal messaggero hanno chiesto di un medico e sono intervenuto ha raccontato marino mi sono alzato due volte prima per un passeggero che ha avuto una crisi respiratoria e poi per un altro che ha avuto un attacco di panico alla fine ho detto al capitano che la prossima volta mi dovrà far viaggiare gratis il sindaco è stato disponibilissimo una persona squisita ha detto uno steward dell'alitalia dopo il fuori programma marino è tornato al suo posto a lavorare al dossier sul patrimonio storico romano da presentare negli usa come obiettivo di trovare mecenati